Alle volte può essere necessario esportare un singolo fotogramma dalla nostra timeline. Abbiamo un tool e uno strumento molto semplice da utilizzare che ci permette di esportare un fotogramma della nostra timeline con determinate opzioni. Sotto il nostro monitor di programma abbiamo questo pulsantino qua che è il pulsantino di esporta fotogramma. Nel caso non lo dovesse avere basterà andare sull'editor dei pulsanti, trovarlo in questo e trascinarlo nella vostra toolbar. Una volta posizionatoci con il cursore nel punto della timeline che vogliamo esportare ci basterà cliccare su questo pulsantino per decidere quelle che sono le impostazioni. Quindi il nome che assegneremo al nostro file, il formato che vogliamo scegliere per l'esportazione, il percorso quindi la cartella dove vogliamo che venga salvato il nostro file, basterà cliccare su sfoglia per scegliere una determinata cartella e scegliere se questo file deve essere reimportato o meno all'interno del nostro progetto. Una volta premuto ok il nostro file nel mio caso è stato appena reimportato all'interno del mio progetto ed ho esportato un file ed ho esportato molto velocemente e facilmente un fotogramma della mea timeline.